Cina Sotto le Stelle è un'iniziativa nata più di vent'anni fa e condivisa con l'amministrazione comunale della città di Pavia per valorizzare le stati pavesi. Ancora oggi si inserisce all'interno di un programma variegato che quest'anno, come l'anno scorso, prende il nome di La città come palcoscenico, evoluta dall'amministrazione comunale attuale. Cinema Sotto le Stelle è una rassegna cinematografica che propone cinema di qualità in una cornice di volta in volta utile alla valorizzazione anche dei luoghi, oltre che dei film che propone. Da tre anni, questa appunto è la terza edizione, la rassegna viene presentata all'interno della cornice del Castello Visconteo di Pavia, che è uno dei gioielli architettonici di questa realtà e che naturalmente invitiamo anche il pubblico a poter visitare. Per cui l'invito è senz'altro quello di partecipare alla rassegna, una rassegna che è già iniziata il 17 giugno e che si protrarrà però fino al 7 settembre, per cui con tre appuntamenti settimanali e fino a quattro nel mese di luglio sarà possibile assistere ad un programma sicuramente variegato, io credo estremamente interessante, anche con degli appuntamenti in lingua originale, per esempio il martedì, così come dedicati espressamente alla famiglia negli appuntamenti di luglio, che ricordavo, previsti solo di sabato. Questi in particolare possono essere degli appuntamenti fruiti in bicicletta tutti insieme. Cambiamo la mobilità delle nostre città, favoriamo una mobilità più sostenibile, facciamolo anche vivendo gli spazi che ci vengono offerti dalla cittadinanza, dalla città, dal comune.